Questi sono i cinque punti della riforma della scuola. Possono piacere, possono non piacere, ma stiamo discutendo dell'alternanza scuola-lavoro. Ricordatevi la percentuale del 44% di disoccupazione giovanile. La cultura umanista, noi mettiamo più ore storia dell'arte, più ore musica, più ore lingue, ma facciamo anche un investimento sia sulle materie classiche che sulle innovazioni, la scienza, la matematica, più soldi agli insegnanti, da un lato i 200 milioni, dall'altro i 500 euro all'anno che diamo a ciascun insegnante della scuola pubblica, l'autonomia come principio fondamentale, infine la continuità con l'assunzione dei precari.